Ce l'avete o no il vostro equilibrio interiore? Ce l'avete o no? Allora ve lo facciamo trovare noi, Ruth Ray! 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 Veros Fia! Veros Fia! Con tante cose da dirvi! Italia Reggae Style! Un reggae con nuovi pensieri! Per tutti voi Valdinetto! Valdinetto ci sei! Un reggae! Tuttica la marina! Rekha Koshinyarui! Giuseppe! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!